Qual è il succo di pancreas? Il succo pancreatico è un fluido secreto dal pancreas, un organo situato in stretta prossimità del tubo digerente con condotti drenanti nell'intestino tenue. Come altri organi associati alla digestione, il pancreas svolge un ruolo nel metabolizzare il cibo in modo che possa essere metabolizzato dal corpo. Il succo pancreatico è solo uno dei liquidi secreti da questo organo, il pancreas è anche responsabile della produzione di insulina e di altri ormoni. Ci sono due componenti nel succo pancreatico. Il primo è una soluzione di bicarbonato e acqua emessa dalle cellule epiteliali che rivestono i dotti pancreatici. Questa soluzione alcalina è progettata per aiutare a neutralizzare l'acido dello stomaco in modo che gli enzimi digestivi possano funzionare in modo più efficace. L'altro componente è un raggruppamento di enzimi progettati per processare carboidrati, proteine e grassi. In molti casi, il pancreas rilascia in realtà i precursori di questi enzimi e gli stessi enzimi si sviluppano nel tratto intestinale in risposta ad altri composti. Il succo pancreatico viene rilasciato nell'intestino tenue, dove agisce sul cibo mentre si muove. Quando il cibo viene metabolizzato, i composti utilizzabili vengono assorbiti dall'intestino, mentre i prodotti di scarto sono autorizzati a muoversi lungo il tratto digestivo, dove alla fine saranno espressi dal corpo. Il processo digestivo è progettato per essere il più efficiente possibile anche se nelle persone con problemi medici che coinvolgono la digestione, un segno rivelatore spesso comporta interruzioni nel metabolismo. Il pancreas lavora in armonia con il duodeno. Come i grassi, le proteine e altri composti sono percepiti dal duodeno, rilascia ormoni per innescare l'attività nel pancreas. Questi ormoni possono aumentare o diminuire le secrezioni e sono progettati per il rilascio temporaneo di succo pancreatico, insulina e altri composti in concomitanza con i bisogni metabolici. Se questo processo viene interrotto, le persone possono iniziare ad avere difficoltà a digerire determinati alimenti. In alcuni individui, la malattia pancreatica richiede una rimozione del pancreas per ragioni mediche. Queste persone devono apportare aggiustamenti dietetici e assumere farmaci per compensare la mancanza di succo pancreatico, insulina e altri composti prodotti in questo organo. I farmaci devono essere presi per tutta la vita e i pazienti devono essere attenti ai primi segni di complicanze, indicando che i loro farmaci non sono in equilibrio o che non stanno calcolando correttamente le loro dosi. Medici e nutrizionisti aiutano i pazienti che necessitano di rimozione del pancreas a sviluppare e aggiornare periodicamente un piano di trattamento per rimanere il più sano possibile.